Buongiorno e bentornati al nostro caffè oggi con Alessio Lapice, benvenuto. Allora, ti abbiamo visto di recente sul grande schermo nel primo re, nel ruolo di Romolo. Com'è stato questo bagno nella storia primordiale dell'antica Roma? Eh, com'è stato? Sicuramente è una responsabilità enorme riportare una storia così grande, il mito, la leggenda di Romolo e Demo, è stata questa forse la cosa più importante, più forte da ricostruire per noi. Ma come facevate di proporre questa antica lingua latina e esprimervi in quel modo? Cioè era questa la cosa che tutti si sono chiesti? Guarda, in realtà le difficoltà più grandi è una cosa che spesso c'è capito di dire di questa avventura, diciamo che più che la lingua, che è una cosa che inizialmente ti sembra un mondo che non raggiungerai mai, soprattutto non è un latino, quello scolastico che io a scuola non ho fatto, ma quello diciamo ancora è il latino arcaico, quindi questo ti porta ad avere forse una difficoltà ancora maggiore nella pronuncia, nel pronunciare proprio le parole. Ma quello che è stato poi più di tutto difficile è stato diciamo il freddo, il fango, le condizioni anche in cui abbiamo tirato. Ah, quindi freddo, fango, proprio autentici, quindi una scuola di sopravvivenza. Molto, molto autentica. Vorresti ripetere una cosa simile, così estrema o ti piacerebbe fare ruoli più ovattati, come dire? Ma ripeterla sì, subito. Ecco, quindi ti consiglio, sono Reduce da un viaggio in Lapponia, nell'estremo nord, proprio il regno dei vikinghi, quindi ti consiglio magari un set in quelle zone. Intanto ti ringrazio, continuate a seguirci e iscrivervi al canale. Vi ricordiamo che ecco, a breve inizierà questa festa di cui anche tu sei protagonista, guest star al Bano, siamo qui a Rome Cavalieri per World of Astoria, per festeggiare i 100 anni di Lincoln in contemporanea con tutti i Lincoln del mondo. Quindi ecco, un clima mondano, vacanziero. A presto e grazie ancora. Ciao ciao.